Ok, bene, allora, eravamo già da un pochino in riunione, pazienza, i primi 28 minuti sono comunque… Allora, io vi suggerirei di andare al testo e precisamente a dove si parla degli acciai al capitolo VI del Cigada Pastore, perché abbiamo bisogno solo di un paio di paginette che ci introduca un secondo a quello, quindi in particolare la pagina 159, 160 e 161, quindi iniziamo a parlare degli acciai, già ne abbiamo parlato, ma a me interessa iniziare ad aggiungere degli altri elementi, quindi nel racconto dell'acciaio, quindi noi dobbiamo immaginarci che stiamo fabbricando degli acciai al forno elettrico ad arco, possiamo immaginare che li stiamo producendo o su a osoppo da Ferriere Nord Pittini, oppure in ABS acciai, qual è la differenza? Ferriere Nord fa acciai principalmente per l'utilizzo nell'ingegneria civile, quindi la loro chimica, l'abbiamo già detto, ma torniamo anche a dirlo, è una chimica relativamente semplice, non che sia semplice fare acciai di buona qualità come fa Pittini, ma diciamo che loro si concentrano su alcune tipologie, su alcune chimiche, quindi diciamo che invece l'ABS acciai fa acciai per l'industria meccanica dove gli elementi sono parecchi di più. Iniziamo quindi, abbiamo parlato per il momento di ferro carbonio, iniziamo ad aggiungere degli ulteriori elementi, gli ulteriori elementi, l'abbiamo già detto, saranno sicuramente silicio e manganese per quello che riguarda la strategia di disossidazione dell'acciaio una volta che l'acciaio è uscito dal forno ed è stato colato in siriera, ma saranno anche lo zolfo e il fosforo perché sono in qualche modo non eliminabili. Se noi andiamo a vedere la tabellina è una norma, la N10.020, con il tenore dei limiti degli acciai cosiddetti non legati, vediamo che alla fine a livello di chimica il massimo ammesso in qualche modo tra tutti gli elementi citati è proprio il manganese che può arrivare fino all'1,65% e gli fa compagnia in tutto questo. Questi non sono numeri da studiare a memoria, ma l'idea è che che silicio e manganese ci sono comunque sempre. Infatti anche il silicio è secondo in questa graduatoria di elementi ammessi negli acciai cosiddetti non legati, quindi gli acciai al carbonio, se possiamo chiamarli così, o che hanno l'utilizzo in ingegneria civile e perché no, qualora serve un acciai relativamente di base anche nell'industria meccanica. Quindi anche il silicio ha un tenore dell'ordine dello 0,6 massimo, quindi carbonio, manganese, silicio, zolfo e fosforo che in linea di massima al momento diciamo che non li vogliamo punto e basta e poi ci possono essere i cosiddetti residuals. Che cos'è il residual? Ma è quel metallo che caricato nel bagno, tipicamente caricato prima nelle ceste dal rottame, non si riesce a eliminare con l'ossidazione, con l'aggiunta dell'ossigeno e quindi per esempio il rame è molto spesso presente in tenori anche abbastanza importanti nell'ordine dello 0,10, 0,20 nei residuals e non è che lo mettiamo intenzionalmente, ma ce lo troviamo nel rottame. Quindi questo è un accenno di quello che è il capitolino sulla composizione dell'acciaio. Poi si parlerà di tante altre belle cose, ma al momento tutto questo non ci serve perché vorrevo farvi in modo un po' diverso i trattamenti termici dell'acciaio. Prima volevo cercare di raccontarvi appunto quello che sono le loro proprietà e quello che succede. Quindi noi stiamo studiando il ferro carbonio, ma oggi dovremmo riuscire a impostare un programma per il calcolo della temperatura di liquidus, così vedremo che elementi della tavola periodica sono presenti. L'abbiamo già detto anche ieri che oltre il manganese, silicio, fosforo e lo zolfo sono immessi in questo caso tipicamente e intenzionalmente, se non possono essere presenti anche questi in piccolissima quantità, nel rottame, il nichel, il cromo e il molibdeno. Il nichel, il cromo e il molibdeno sono elementi che vengono aggiunti intenzionalmente al bagno metallico, tipicamente nella seconda parte della fabbricazione dell'acciaio, quindi non più nel forno elettrico d'arco, ma direttamente in siliera e vengono dati contenori molto variabili e vanno a impartire diverse proprietà interessanti dal punto di vista meccanico o dal punto di vista della resistenza alla corrosione, in questo è importantissimo il cromo, ma non solo. Allora, io volevo poi che voi buttate un occhio, chi ha il testo sotto mano, se no poi lo recupererete in qualche modo, alla tabellina dei cosiddetti acciai laminati a caldo, quindi un acciaio può avere diversi stati di fornitura. Noi possiamo andare a utilizzarlo, sarà sempre deformato a caldo e sarà sempre deformato a caldo tramite laminazione a caldo, perché la fabbricazione dell'acciaio di acciaieria non prevede mai la fabbricazione di un oggetto tridimensionale, quindi cercate bene nella vostra testa di distinguere bene, perché di solito i giornalisti o comunque sia non si riesce a distinguere tra una fonderia e un'acciaieria. Beh, l'acciaieria produce dei prodotti che sono tipicamente dei prismi indefiniti, quindi possono essere sezione tonda, sezione quadra o che cosa. La fonderia tipicamente, perché poi ci sono sempre anche le eccezioni, invece produce un qualche cosa che ha già una sua tridimensionalità del materiale che poi può essere sgrossato di macchina, quindi può avere dei sovrametalli piuttosto importanti, però la differenza è acciaieria, prisma, va poi deformato successivamente, fonderia non sempre o quasi mai, per essere chiari, viene poi deformato a caldo. Ci sono delle eccezioni qua in regione, perché noi abbiamo le acciaierie e fonderie di Cividale che fa un po' di questo e un po' di quello in quel di Cividale, perché fanno sia lingotti, non hanno una colata continua, colano di lingotti che poi questi lingotti vanno deformati, oppure colano con tecniche di fonderia degli oggetti che poi non saranno più di tanto deformati. Questo per andare avanti nel racconto della produzione dell'acciaio. Quindi produzione dell'acciaio, noi iniziamo un po' a valutare quello che succede allungendo il manganese. Quindi noi abbiamo fatto le nostre curve di solidificazione, mi piacerebbe sapere se qualche d'uno è andato avanti con il discorso di aggiungere lo 0,3% di manganese o l'1% di manganese, giusto un po' per differenziare un valore rispetto all'altro. Qualche d'uno ha provato a farlo e ha provato a vedere se abbiamo delle differenze o meno? Allora, diciamo che oggi io vi do da fare due lavori e vorrei che lavorassi in qualche modo interattivo, nel senso che c'è Giovanni stamattina? Giovanni, buongiorno, buon pomeriggio. Ascolta, tu avevi lanciato ieri quella, come si chiama, quella poll, giusto si dice così, insomma, indagine statistica e mi pare che alla fin fine quasi tutti non vogliano fare delle lezioni, più lezioni per finire prima, giusto? Sì, si era venuto abbastanza pesantemente il no. Ok, va bene, rispettiamo quello che decide la Maggiore, con un minimo di perplessità, perché oggi è una fantastica giornata, ma se si potesse andare a farsi un giro per la città o anche al mare sarebbe più carino rispetto a starsene comunque obbligatoriamente a casa. Diciamo che l'anno scorso avevamo finito appunto ai primissimi di maggio, sicuramente quest'anno non finiremmo così ad accelerare, però così è. Guardate che poi io ve lo dico, perché io vedevo anche stamattina, ho avuto per le mani dei vecchi esami di un signore che gli manca progetto di macchine, penso da una quindicina d'anni, da 10-15 anni, no? Che gli è rimasto come ultimo esame, è un peccato perché non si laurea, non so se si laureerà mai, quindi diciamo che io auspico che voi riusciate a fare l'esame progetto di macchine nei tempi e in modi desiderati, quindi il suggerimento mio era né più né meno per darvi più tempo verso la fine di poter lavorare e di poter studiare di più e potervi preparare tutto lì, però non spetta a me, io mi sono già laureato qualche tempo fa, quindi così è e così lo lasciamo. E allora, quindi noi stiamo parlando di ferro carbonio, poi di ulteriori elementi, il manganese e il silicio in cui vengono aggiunti e poi ci sono una serie di ulteriori elementi che vengono aggiunti, abbiamo detto il nickel, il cromo e il molybdeno per impartire delle caratteristiche tipicamente delle caratteristiche meccaniche. Siamo sempre nel campo dei cosiddetti acciai speciali, per cui ne parleremo, che c'è un capitolino del testo espressamente dedicato a questo, che è il capitolo numero 7 appunto, però per il momento cerchiamo solo di capire che negli acciai speciali per l'utilizzo nell'ingegneria meccanica è difficile, non impossibile, che un qualche tipo di elemento superi a livello indicativo il 5% come chimica, mentre negli acciai inossidabili, dato che ci deve essere il cromo, c'è sempre il cromo che ha valori superiori al 10, tipicamente almeno l'11 o il 12% di cromo e questa però è la categoria degli acciai inossidabili nelle tre famiglie principali che sono gli austenitici, i ferritici e i martensitici, non sono gli unici, ma sono degli acciai che vanno già al di là degli acciai speciali e per cui bisogna avere in linea di massima degli strumenti di produzione che sono diversi da quello che fa l'acciaieria anche di grandi volumi, l'ABS acciai una volta faceva gli austenitici, adesso non li fa più perché servirebbe un convertitore argono-ossigeno, una UB, quindi i inossidabili sono una fetta piccola degli acciai in qualche modo alto legati o legati abbastanza, il grosso della produzione mondiale sono acciai, ferro, carbonio, manganese e silicio. Ok, ma proprio il grosso grosso dei quasi 2 miliardi di tonnellate che si fanno all'anno in giro per il mondo. Allora, adesso dobbiamo tornare tanto per cambiare sul nostro primo www.unyud.it. L'avevamo già scaricato ieri il lavoro di, dall'iron making e still making? Sì, ne va scaricati tre in totali gli articoli. Mi ricordi quali? Adesso li vado a prendere. Allora, uno che era estimation of liquidus temperatures. Esatto, quello lì. Ok. Esatto, quell'articolo lì, è un articolo del 2000, a nome Miettinen o Miettinen, un signore finlandese, e a nome Hov, che sarà ormai in pensione, che all'epoca però lavorava nella parte del, penso fosse ancora british steel una ventina di anni fa. Allora, questo lavoro vi dà il calcolo della temperatura di liquidus degli acciai. Temperatura di liquidus, che è una stima, perché sarà sempre un mix di misure sperimentali, di pratica di acciaieria e, non ultimo, oramai negli ultimi vent'anni decisamente, della metallurgia computazionale. Può essere appunto il termocalc, può essere il pandat, può essere... a questo punto qua, dobbiamo, eccolo. Diciamo che questo autore comunque ancora deve avere una certa età, però lavori, quest'ultimo lavoro qua invece è del maggio del 2020, quindi non è che sia... Allora, come volete procedere per quello che riguarda questo tipo di lavoro? perché aspetta a voi pensare un attimo l'algoritmo e vedere quello che si può fare. Provate a leggervi il lavoro e qua avete delle equazioni che sono già nella prima parte del... si vede? Devo... forse così si vede meglio. Allora, vi dovreste leggere con tutta tranquillità quello che si propone allora in questo caso qua, uno degli autori propone una sua equazione con una serie di valori per quello che riguarda la composizione chimica. Va bene, però non occorre che voi lo andiate a riprodurre. Quello che potete e che dovete andare a produrre per questo tipo di assignment è prendere i dati di queste tabelle qua, iniziarvele a leggere e capire che cosa potete andare a proporre come equazione analitica per la stima della temperatura di liquidus. Vedrete che nel lavoro ci sono sia delle tabelle con alcune indicazioni di massima, questa è la tabella 2, che poi delle composizioni nominali, nel senso che in buona parte questi valori potranno essere dei valori massimi, ma comunque tipici rappresentativi di certi tipologie di acciaio e poi sono stati fatti per questi studi e quanto altro anche delle leghe, in qualche modo diciamo queste, la tabella 5, degli acciai che rispecchiano in qualche modo dell'interesse verso queste chimiche qua. Notiamo le chimiche tipiche degli acciai inossidabili e notiamo poi delle ulteriori composizioni. Qualche d'uno mi dice come vuole procedere su questo, cioè io ti do un'analisi chimica di un acciaio, cosa abbastanza... e tu in qualche modo non hai questi valori qua. Come puoi andare avanti? Ma la risposta è naturalmente ovvia, andremo a utilizzare le tecniche di regressione lineare multipla, no? E quindi occorrerà che vi fabbrichiate un programmino e che iniziate a fare in gruppi, direi, anche abbastanza estesi. Per il momento non occorre che lavoriate necessariamente in tre, potete lavorare anche in sei o in nove, ma basta che venga fuori. Quindi la traccia è quella del mio programma o di qualsiasi altro programma di regressione lineare, ma secondo me ci potrebbe anche stare di andare a utilizzarlo così com'è, no? E poi cercare di fare andare avanti tutto. Step numero zero è capire quali sono i dati, quali sono le chimiche e su che cosa dobbiamo andare a lavorare. Quindi anche step numero zero è capire molto banalmente come poi riusciamo a riprodurre quello che viene fatto qua. Qua è una serie di numerazioni, allora ho il numero zero bla bla bla, uno, due, tre, quattro, a riprodurre almeno qualche grafico di questi acciai e quanto altro. Le tabelle che ci sono qua hanno delle chimiche abbastanza precise, per cui io vi raccomanderei di riuscire a lavorare assieme e in qualche modo abbastanza anche accurato, nel senso che questi dati devono essere presi e importati a me in alcune tabelle. Potrebbe esserci un'intermediazione rispetto a Excel e poi uscire dall'Excel, uscire in modalità testo direttamente su MATLAB. Io vi lascio una decina di minuti per poterne parlare e poi mi fate qualche tipo di proposta. Scusi prof, temo di non aver capito molto bene il tutto. Noi adesso dobbiamo prendere qualche chimica a caso di queste? No, no, le dovete prendere proprio tutte. Ah, tutte? Ok, per tutte poi ci calcoliamo la curva di liquidus, la implementiamo con un algoritmo di regressione lineare multipla e vediamo quali sono le curve che... Allora, andrà fatta una cosa anche di leggibilità, dovreste... è più importante di quello che sembra questo, cioè dovete imparare, avete una serie di nozioni, la nozione è che gli acciai sono fatti di ferro, carbonio, manganese, silicio e altro, no? Questo altro può voler dire anche zolfo, fosforo, cromo, nickel, molibdeno, rame, azoto addirittura in termini di ppn di parti per milione e quanto altro, quindi voi dovete prendere. Qua, in tutte queste, avete alloy number, no? E avete anche una temperatura di liquidus, osservata, calcolata o quanto altro, qui. Quindi l'alloy numero uno è carbonio, silicio, manganese e ha la temperatura di liquidus di questo, no? Ah, ecco, mi spiegherò solo quella... l'ultima colonnina. Ok, quindi il liquidus è... Sì? Scusi, una domanda, ma quei numeri là non... cioè sono dei coefficienti del modello matematico o sono delle percentuali? Queste sono le percentuali in peso. Nominal composition weight percent. Ah. Ok? Sì. Leggetevelo. Spendeteci due... Allora, secondo me, questa è forse la differenza rispetto alle altre lezioni. Lascia un po' spaesati. Cioè io vi do qualche tipo di indicazione. Io lavoro, lo conosco, perché devo aver... Vi ripeto, il primo assignment su questo deve avere almeno una quindicina d'anni, ahimè. Però l'idea di base è che voi dovete leggere e essere così bravi da leggere qualche cosa e di avere un po' di senso critico nell'utilizzare i dati, cioè nel leggere e capire quello che dovete fare. Il problema sembra in qualche modo mal posto, ma vi troverete maledettamente in condizioni simili quando dovrete andare a lavorare, perché il datore di lavoro, il collega, il capo, che cosa, non vi dà un... guarda, dato, questo qua, ipotesi, vai a fare... Ma vi dà un qualche tipo di documento, buona parte magari il documento lo devi tirare fuori tu, a cui tu stesso devi dare un qualche grado di attendibilità. Io a questo signore qua mi permetto di consigliarlo, perché è un signore molto serio, mi ha fatto negli ultimi vent'anni un sacco di lavoro, non solo per le leghe ferrose, ma anche per le leghe di rame, come probabilmente vedremo, e quindi è un qualche cosa di affidabile. Oggi come oggi, noi siamo... pensate a questo accidenti di caso dei vaccini, dovevo vaccinarmi domani io con l'AstraZeneca, siamo circondati da informazioni spesso molto molto contraddittorie. Dobbiamo essere così bravi da prendere e leggerci dei dati e poi capire, e questo dovrebbe essere anche l'affidabilità della previsione che siamo riusciti ad andare a fare. Quello potrebbe essere anche un discorso interessante, perché poi capiremo che poi magari il livello di previsione del modello è ottimo, è buono, è pessimo, quello che volete. Quindi, secondo me, adesso molto banalmente c'è da smazzarsi, copiare e incollare un sacco di dati e fare in modo che, con questi spiazzi bianchi che ci sono, che la composizione chimica del rame non venga fuori come composizione chimica del molibdeno, per esempio. Quindi, vedete che ci sono un sacco di numeri che voi non dovete, ovviamente, imparare a memoria, però comunque sia, vedendo tutte queste chimiche, inizierete a pensare, toh, guarda, c'è sempre il carbonio, silicio, manganese, molto spesso c'è l'ichel e il cromo molibdeno, come mai ogni tanto c'è un po' di rame? Perché c'è l'azoto? Che cosa? Quando ci mettono un po' di vanadio, ci possono essere anche degli altri elementi, probabilmente, in queste tabelle qua. Vedete, quindi dovete fare in modo che, qua abbiamo per esempio del titanio, del niobio. Perché c'è il titanio e il niobio? Forse è meglio, quando si affronta, si studia in qualche cosa, iniziare a domandarsi in qualche cosa e poi capire perché c'è quello. Perché se io vi dico che il titanio, il niobio e il vanadio sono dei formatori di carburio, ah sì, va bene, me lo imparate a memoria, me lo ripetete forse all'esame, ma non vi rimane più di questo caso qua, invece, vi tocca smazzarvelo fuori. Ok? Dieci minuti per... Io spengo il microfono e videocamera. Vi aspetto per le... Io faccio 14.03 per le 14.13. Parlatene tra di voi, signori. Ok. Dieci minuti. Con un piano di lavoro che si ha in qualche modo. Tu fai quello, no, io faccio quest'altro, no, io faccio quest'altro ancora. Prego. E che prof, scusi. È ancora lì? È ancora lì, sì, al momento. Poi in realtà vi lascio cinque minuti per parlare tra di voi. Sì, sono ancora qua, dimmi pure. Sì, no, è che mi viene un po' difficile fare questo lavoro proprio perché ancora l'articolo non l'abbiamo letto, quindi... Appunto, adesso avete dieci minuti per... Adesso avete dieci minuti per... Non dovete da subito... Buttate un occhio al lavoro. Qualche d'uno a più sveglio ci arriva prima, qualche d'uno a meno sveglio magari non ci arriva subitissimo. Però adesso vi buttate un occhio all'articolo che avete tutti, che è comunque qua, che a scanso di equivoci perché non perdiate poi tre ore a farlo... Lo mettiamo ulteriormente qua. E poi vi buttate un occhio perché quello dovrà essere... Non pensiate che quando sarete in azienda vi chiederanno di dimostrare un teorema o di risolvere un'equazione di secondo grado. Vi chiederanno delle cose tipicamente più complesse e quindi il consiglio che vi do e il modo di lavorare che abbiamo è quello di cercare di affrontare e se possibile di risolvere in modo dignitario. Altro problema purtroppo ben presente in azienda è molto importante per chi ha appena finito l'università che l'azienda non ti dà dei tempi biblici per andare a risolvere i problemi. Devi cercare di buttarti dentro, di scegliere... Bisogna perdere un po' di tempo per impostare lavoro, quello ci vuole perché tuffarsi esclusivamente a pesce è sbagliato. Però... Ve l'ho messo anche nella chat, ok, ve l'ho messo anche nella chat, contrariamente a quello... Però i prossimi ve li andate a recuperare da soli. Adesso vi lascio il microfono acceso, ma due minuti sono davvero via. Parlate tra di voi liberamente e se possibile non ascolto. Grazie. Bene. Grazie. 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 Attenzione che sono rientrato, eh? Attenzione che sono rientrato. Non esiste, come in tutti i problemi pratici da risolvere, un modo solo per risolvere tutto questo. Io posso darvi solo dei consigli. Allora, secondo me l'algoritmo va un attimo in qualche modo pensato. Bisogna anche decidere se volete in qualche modo utilizzare dei dati da leggere, utilizzare dei piccoli dataset per vedere se a livello di algoritmo potete andare avanti. E non ultimo, assolutamente non ultimo, avete la possibilità di calcolarvi col Pandat delle superfici di liquidus con i tre elementi. altri potreste farlo con ferro, per esempio, carbonio manganese, altri potrebbero farlo con ferro carbonio silicio, altri potrebbero farlo come ferro carbonio cromo, altri potrebbero farlo come ferro carbonio nickel, altri ancora come ferro carbonio molibdeno per darvi un'idea. in questo caso qua avrete, o avreste, delle superfici di liquidus con i database che avete e su quelli potete avere dei dataset su cui non occorre neanche più di tanto impazzire o che cosa. Potete anche unire volendo i dati e vedere se vi viene fuori qualche cosa di sensato prima cosa. perché dovete capire che tipo di algoritmo fare. Secondo me rimane sempre una regressione lineare multipla in cui in linea di massima potete valutare se far valere la percentuale di carbonio fino al secondo ordine, ma gli altri elementi in linea di massima dovranno essere del primo ordine perché altrimenti vi diventa un modello troppo incasinato, troppo complicato. Lo vedete anche in quello che succede nelle equazioni già in qualche modo calcolate, cioè potete buttare un occhio su quello che ha già fatto la gente fino al 2000, dal 2000 ad oggi avranno fatto altro, però non mostruosamente altro. Quindi questa cosa qua, se fatta bene, sarebbe già di gran lunga un lavoro professionale. Quindi fare uno screening di dati e quanto altro di processo e vedere quello che succede. Ok? Ci sono delle osservazioni, delle domande in generale? Come possiamo tirare fuori i dati da PDF e trasformarli in Excel? Io penso che sarà un po' un problemino che dovrete, siccome siete in gruppi di tre, dovrete un po' arrangiarvi e non sarà semplicissimo secondo me. sì. Vedi il mio schermo? Sì. Allora, io farei così, ma in questo momento qua stiamo… sei chi rollo? Sto giusto? Contro C. Sì. Ti tocca passare attraverso in qualche modo… sperare che… allora vediamo… prima ipotesi che vedrai che sicuramente non funzionerà… sbatterli come sono, così… brutta roba, no? Quindi la roba migliore, almeno io farei così, ma non è sicuramente la soluzione migliore… prenderli e metterli a posto, per esempio anche in qualche formato di testo, prima possibilità, oppure addirittura paradossalmente in Word, e vediamo se ci permette di fare qualche cosa di decoroso Word, comunque sarà una bella rogna e potreste anche un po' dividervi il lavoro tra di voi, nel senso che siete comunque una cinquantina, che se uno deve copiare tutti i dati diventa pazzo, se uno invece lavora con gli altri probabilmente ha un po' meno lavoro da fare, allora vediamo cosa viene fuori… qua è uno schifo anche… già meglio, ma non è entusiasmante, no? Abbiamo una serie di dati, uno, due, tre… e bisogna che poi vengano messi a posto in colonna e quanto altro, quindi… guardate… leggetevelo tutto il lavoro, perché dovete capire anche quello che riuscite a fare… non è importante che per un primo… per vedere se l'algoritmo funziona, che li buttiate dentro tutti da subito… vi ripeto… non siete… non siete in pochi… quindi la possibilità è che possiate metterli dentro tutti… lavorando… lavorando un po' più degli altri… è una rottura di palle… però questo discorso del data entry… di buttare dentro dati in tabelle… quanto è… è tipico… altra possibilità ancora… ma penso che non venga fuori meravigliosamente… file… apri… sfoglia… provare ad aprire il documento… vedere se è rimasta la formattazione in… io sto aprendo il pdf con Word… no… non serve… non serve mica molto… perché… beh… insomma… dipende tutto se… 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 se ti permette di importare i dati o meno… se non li devi mettere a manina… se li devi mettere a manina… vi dovete organizzare… strutturare voi un pochino… nel senso che… uno si fa una roba… siete in 50… in 50… ammesso che siano anche 2.000 dati… fare in 50… 2.000 dati… fare 40 righe… non penso sia un problema… fare uno solo… 2.000 dati… che non sono ovviamente… perché abbiamo detto che è qualche centinaio di dati… fare uno da solo… è una rottura di scatole… è assolutamente… non meritoria… beh… ma qua non mi sembra male… sinceramente… no… quindi io l'ho aperto in Word… e… dovrò poi verificare che ci siano le diverse tabelle… ma non mi sembra malissimo… Chirolo ci sei? Sì… ci sono… Allora… vediamo… partiamo dalla tabella 3… per esempio… la tabella 3… secondo me messa così non è male… bisogna vedere poi quello che ti permette di fare… quindi te lo copi… e vedi… di… di… riuscire a farli arrivare da qualche parte… sull'Excel… sulla… no… dico questo… comunque… la roba importante è che voi vi generiate un valore… e potete anche passarvelo tranquillamente tra di voi… un primo valore… diciamo… una trentina di dati… e poi fare l'algoritmo… l'algoritmo… l'algoritmo come avete in testa di farlo… sull'algoritmo… però comunque ho notato… che da Word a Excel… funziona… quindi in teoria… l'hai fatta… ok… se funziona… io non lo so… perché io… l'ultima volta che l'ho fatto fare fisicamente… questo… appunto… hai messo… una quindicina… ho aperto da Word il PDF… e poi da Word ho copiato e incollato su un Excel… e mantiene bene la formattazione… l'unica cosa è che ci mette un per al posto del… della virgola… però basterà mettere… basterà fare… sostituisci… esatto… sostituisci… questi problemi qua in azienda… pensate di non trovarveli mai… una volta che siete in azienda… di passare dati da una parte e dall'altra… se voi pensiate di andare a risolvere equazioni differenziali delle derivate parziali… quando sarete in azienda… magari qualche d'uno… sì… però in linea di massima… quasi tutti gli altri… avranno a che fare… con problemi di questo genere qua… che sono problemi banalissimi… vero… però se noi vogliamo costruire un modello… che sia un modello serio… alla fin fine… ci dobbiamo passare attraverso… mi raccomando… cercate di documentare… nel flusso delle informazioni… che siete degli allievi comunque di ingegneria… quello che avete fatto… perché poi sarebbe un peccato… fare un lavoro serio… fatto bene… e siccome non avete documentato… sono riuscito a fare questo… ho tirato dentro la tabella… 1… 2… 3… o quello che è… oppure ho escluso la tabella… 1… 2… 3… o quello che è… sarebbe un peccato andarsela a perdere… d'accordo? organizzatevi… vi dico… non è nulla di particolarmente pulitivo… se riuscite a farlo tra di voi… in questo caso qua… è assolutamente ammesso… che vi scambiate i dati tra di voi… e poi vediamo… alla fin fine… che razza di modelli… potete tirare fuori… io quello che… che lascerei in qualche modo… di mezzo… è questo… vediamo se mi riesco a spiegare… io lascerei la possibilità al carbonio… di essere presente… sia come per cento… che come per cento al quadrato… perché questo? perché… in qualche modo ci sono dei mini effetti di curvatura… nella… nell'equazione del liquidus… equazione… la regressione lineare del liquidus… che abbiamo già calcolato… vi ricordate… che avevamo utilizzato un polinomio di secondo grado… no? e… per gli altri elementi… tenderei a non utilizzarli… altrimenti… non se ne viene fuori… con le significatività… si può fare tutto… perché poi… l'algoritmo è comunque relativamente semplice… ulteriori osservazioni? sì… volevo chiedere se noi abbiamo visto prima… la regressione con x e y… cioè con solo due… due colonne di dati… possiamo anche farlo per due colonne? ma certo Chirolos… allora domanda è pertinente… allora… documenti recenti… allora… questa… per esempio… si vede il mio schermo… Chirolos… chi ha acceso il microfono per favore… Chirolos… che così riusciamo a fare le cose in modo… vedi il mio schermo? sì… ok… grazie… allora… qua sono dei dati… dal Pandat… con temperatura di liquidus… per cento… carbonio… per cento… cromo… ok? ok… allora… qua… l'ho fatta lunga… ma sostanzialmente… potresti fare delle cose… anche… più semplici… quindi… i dati sono… in questo caso qua… l'importante è che tu capisca… i tuoi dati sono liquidus… qua… sono sulla prima colonna… quando tu andrai a organizzarteli… magari saranno su un'altra colonna… poi… abbiamo… x1… che sono… che è la percentuale in carbonio… e… x2… che è la percentuale in cromo… e… gli altri… lasciameli perdere… per il momento… quindi… noi… andiamo a fare… così… quindi… l'algoritmo è esattamente… sempre… lui… quindi… si vede abbastanza… x uguale a 1… trasposto… x1… x2… e poi… lo… salva file… lo salviamo… perché così… bravo… ed esegui… se non c'è qualche bug… aggiungi… ok… in questo caso qua… è una predizione… su un intervallo piuttosto largo… secondo me… di chimiche… di carbonio… perché qua… abbiamo dei carboni… dell'ordine… del 4… e rotti… cosa che voi… non avrete… sicuramente… quindi… se tu noti… Chirollos… abbiamo chiamato… x1… l'abbiamo chiamato… i dati 2… quindi il percentuale di carbonio… e x3… sarà… invece… i… scusa… x1… i dati del carbonio… x2… sarà la composizione in cromo… no? quindi… possiamo fare un po' con quello che vogliamo… l'importante è che sappiamo che cosa gli abbiamo dato da fare… io… precedentemente… per questa superficie qua… molto estesa… gli avevo dato anche delle… delle ulteriori variabili… delle potenze… la seconda… la terza… la quarta… e così via… non è il caso… per una superficie di liquidus… casomai… potrebbe avere senso… perché sappiamo che ci sono degli effetti di curvatura… anche un po' strano… con… con le curve di solidificazione… però non è invece… non è invece… pensabile… di farlo… altrimenti… quindi… tu… eh… chiamerai… l'x1 sarà il carbonio… l'x2… dico io… per dirtela… sarà il manganese… l'x3 sarà il silicio… eccetera… eccetera… ok… tutto quanto… tutto quanto… quindi l'importante è che tu sappia quale dato c'è… e quale vai a riprodurre… è forse il caso… che… che vi diate… allora cerchiamo di… di avvantaggiarci un attimo… se poi vi devo dare… qualche dritta… apri… il mio computer… c… metallurgia 21… imfiles… vediamo se abbiamo qualche cosa di… dovrebbe venire fuori qualche cosa di questo genere qua… stima la temperatura di liquidus… vediamo un poco… allora… in questo caso qua… il… 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 ma… erano messi i dati in un file… che aveva… carbonio… silicio… maganese… fosforo… eh… zolfo… cromo… molibreno… nickel… rame… vanadio… e basta… perché non… 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 si è messo dentro altri… altri… elementi chimici… quindi questa qua è una tabella… che… grosso modo… prof… lei ce l'ha già… perché non ce l'ha… con 124… valori… quindi non… non è un… non… non… no… non sono i 124… valori qua… secondo me… I file sono nel tl.dat che dovrebbero essere, vediamo dove sono e quanti dati sono stati riportati. M, metallurgia 21, M, dati, non sono neanche qua. Devo andare a vedere dove è andato a finire questo file. Ok, devo andare a beccare dove è questo file di dati, che io stesso non so dove è andato a finire. Però l'idea di base è che ci servono le composizioni chimiche, in questo caso qua si è fermato rispetto al vanadio. Però possiamo anche vedere, vediamo se in parentato prossimo c'è una temperatura di liquidus. Titanio Tl 40. Non capisco perché ci siano questi dati qua. Ma in ogni caso, non dobbiamo commentare questo, ma dovete darvi voi da fare un poco per venire fuori da questa incresciosa situazione. Probabilmente questo qua è il ref, sì. Ora 12, 13. 1000, 0, 3. Ah no, li ho alla fine, li devo avere copiati e incollati. Sono in effetti effettivamente qua. I dati sono questi. Ho cancellato il comando di lettura dall'esterno. 1503, il primo, 13. 1503, primo, 13. 1505. Va bene, non ha 1, 5, 0, 3. 12, 12. No, non lo vedo. Non è fondamentale. Allora, ripeto, organizzarsi la preparazione dei dati. Potete tranquillamente scrivermi, io ci sono tutta la settimana a dire prof, siamo riusciti a fare questo dataset piuttosto che un altro che cosa. Ovviamente cercate un po' di, appunto, la prima cosa, un mini riassuntino di chi è più bravino in inglese, ma anche chi non è bravino in inglese deve imparare che la letteratura tecnica in giro, quando avrete a che fare la vostra azienda, ci lavorate da ingegneri meccanici, o l'azienda utilizza l'inglese, o l'azienda, se non utilizza l'inglese, semplicemente chiude. Quindi questa è la situazione. Quindi non è che noi necessariamente siamo entusiasti di parlare in inglese, però la documentazione tecnica per preparare le offerte ai clienti, le proposte dei clienti, quello che gli dobbiamo vendere, è tutto maledettamente fatto in inglese. Perché questo è il lavoro dell'ingegneria, dell'ingegnere italiano, giusto, non si può prescindere. Se poi si sa un'altra lingua, anche l'italiano, bellissima lingua, utilissimo, ma non è soltanto questo. Ok, altre osservazioni? Perplessità? Ultima domanda, scusi. Prego. Ma noi dobbiamo fare per tutte le tabelle o solo la tabella 3? Voi dovete fare per tutte le tabelle, Chirollo. Se dovete essere così bravi, dà anche da specificare se i dati sono presi a tabella 1, tabella 2, tabella 3 o che cosa. Siccome siete in tanti, in più persone lavorano, e siete anche in diversi gruppi, facciamo un mini censimento ad oggi, e poi vi lascio andare. Mi serve solo il numero 1 del responsabile dei diversi gruppi, e poi vi lascio quelli che non sono, allora, abbiamo sentito per esempio stamattina la Lisa di Centa, che non so se c'è ancora, questa è una. Sì, ci sono. Ok, Lisa, tu hai un gruppo tuo. A me servono i nomi delle persone che stanno seguendo i gruppi, se non ci sono, pazienza. Quelli che mi inviano le mail. Luca. E poi? Gizzo. Sì, sì, certo. Poi? Clarissa Fluminian. Sì, certo, Clarissa. Truccolo Alberto. Sì. Giovanni Conocenti. Allora, torna a dirmi, scusa, perché sto scrivendo su un pezzo di carta. Aiutami, vediamo se vado... Truccolo Alberto. Truccolo Alberto, perfetto, sì. E poi? Giovanni Conocenti. Sì. Poi? Dalfarra Lorenzo. Allora, Dalfarra, allora Lorenzo, no? Sì, Dalfarra Lorenzo. Sì, va bene. Idris Nicodeme. Sì, io scriverò solo Idris, sì, un po' presente, ma ho come sempre qualche problemino a scrivere il cognome, ma non c'è nessun problema a trovarti dopo. Era solo per stimare grosso modo i quanti siamo. Poi c'è Enrico, giusto? Sì, d'alcol, Enrico. Enrico d'alcol, sì. Lega i giorni. E poi c'è Lega, aiutami. L-E-K-A-J. John. G-J-O-N. Ok. Lisa Ortis. Lisa Ortis, certo. Lisa, buongiorno. Poi abbiamo finito qua. Giuliano Fabris. Giuliano Fabris, giusto. Sì, grazie. Poi? Alessandra Veghini. Sì. Certo, Alessandra. E poi? Il nostro capogruppo è Matteo, che ha problemi di connessione. Nessun problema. Tu mi dici come si chiama di cognome, il Matteo? Matteo del Bianco. Perfetto, grazie. Altri in rappresentanza del capogruppo? Qua sono 13 per 3, sono 39 persone. Sì, ce n'è un altro che è Francesco Rossi. Ok. Attenzione, questo qua non è un appello che se uno non c'è viene fucilato. È semplicemente un discorso di tipo organizzativo per iniziare a mettervi su qualche file Excel. Allora, questo lavoro qua è un po' più... Allora, voi siete una quindicina di gruppi. Ok. Scambiatevi di questi dati qua. Fate un lavoro, fate poca roba e fatta bene. Piuttosto che siete in grado di sentirvi tra virgolette tra capogruppo. Per fare un lavoro fatto benino tutti quanti. Perché se abbiamo un buon dataset c'è da lavorarci sopra ed è comunque una cosa che ha un suo valore applicativo. Perché comunque sia partiamo da una conoscenza buona e andiamo a dargli delle cose. È chiaro che esiste sicuramente su web, ci sono un bel po' di formuline sulla temperatura di liquidus degli acciai. Però, in questo caso qua, abbiamo un dataset serio e possiamo fare una statistica, direi, relativamente seria e quindi avere un qualche cosa che è il nostro... è il prodotto del nostro, tra virgolette, lavoro. Ok. Ci vediamo. Allora, oggi ne abbiamo 16, no? E quindi noi avremo una lezione il 22 e il 23. E poi... Abbiamo un calendario pasquale già definito, per cui il 22 e il 23. E poi anche il 29 e il 30, domanda? Perché Pasqua è la settimana dopo, no? Aprile. Quindi, per tutto il mese ci vediamo regolarmente, giusto? Solo per programmare un po' di lavoro. Ok? Posso lasciarvi qua? Giovanni, hai delle osservazioni? No, no. Ah sì, nei 20 minuti prima dell'una e mezza. Prima di lezione. Boh, abbiamo fatto un po' di commenti su un lavoro che ha fatto l'ISA di Centa, che è il calcolo delle curve di solidificazione con una composizione chimica un po' più ricca, che è la composizione chimica grosso modo di interesse proprio in questo momento di un ragazzo che sta facendo il master che lavora con Ferriere Nord, e di un'altra ragazza che sta facendo il master che invece lavora in Danieli, che è un lavoretto in qualche modo finale, e quindi abbiamo esteso tutto quanto e io ho rifatto i conticini su questo. Adesso appena riesco a risolvere il problema dell'ultima composizione chimica che mi sa che prendo e andrò a condividere in qualche modo questi dati qua, ma è un qualche cosa, in qualche modo di più. Era semplicemente per farvi vedere come dalla teoria, che è l'aula, insomma, si può passare alla pratica, oddio, non è super professionale già la cosa, però comunque verso un mondo professionale che secondo me è importante, cioè utilizzare delle idee, dei concetti nuovi, perché vedete che l'articolo di Sindoku è di quest'anno, per risolvere dei problemi che comunque sono dei problemi correnti. Non è difficile oggi come oggi fabbricare l'acciaio, sia l'acciaio per il settore civile in particolare, ma anche gli acciaio speciali. Difficile è farlo bene che non abbia nessun problema, che non abbia cricche al proprio interno, che non abbia, vabbè, inclusioni non metalliche, ma il problema delle cricche, lo vedremo, forse invitiamo qualche d'uno a parlare di controlli non distruttivi. Avete fatto qualche cosa con De Bona, forse, sugli ultrasuoni? Controlli non distruttivi. O con Marco Sortino? No, con Totis, mi sembra. Sì, vi ha accennato, avete fatto qualche cosa di più che accennarlo, avete fatto qualche lezione, non ho idea, perché non... Adesso ho dei vaghi ricordi, aveva fatto Sera GX, qualcosa sull'ultrasuoni... Ma, insomma, secondo me, se riesco a intercettarlo, io, uno dei miei tanti laureati, lavora ai controlli non distruttivi della BSI e diciamo che poi il materiale va bene o non va bene, stiamo parlando di valori importanti a seconda di quello che viene fuori con gli ultrasuoni, insomma, lui è partito, stava studiando e già era tecnico di ultrasuoni. Poi, nel frattempo, si è anche laureato e poi dopo è andato a lavorare lì. Ok? Altre osservazioni? Prof, una domanda. Però, una cosa che non ho capito bene. L'assignment numero 3 e quello 4 bisogna mandare entro lunedì prossimo? Sì, 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 tutti e due. Ok, grazie. Tutti e due. Prof, io avrei una domanda sulla segment numero 3. Posso condividere lo schermo? Sì, certo, Federico. Grazie. In particolare sulla figura 6 e sul diagramma A. Non so se si vede. Sì, si vede abbastanza. Con percentuale di 0,02% di carbonio. Ho provato a rifarlo su Pandat. Sì. E quello che mi viene fuori è questo. Ovviamente, se vado a vedere la tabella, non c'è valori per quanto riguarda la derivata della temperatura rispetto alla radice. Intanto io me lo segno, non sono in grado di risponderti al volo. Certo è che il 0,02% è un valore un po' basso. Qualche d'uno può rispondere a... Federico, sei giusto? Sì, anch'io ho provato a farlo e viene la stessa cosa. Ok. Cioè, se si fa, non la derivata, ma se si fa con solo la temperatura come è fatto nel PDF, viene uguale al PDF. Invece se si fa la derivata viene tutto 0. Invece gli altri corrispondono. E quindi solo questo non so come va. Allora, ragazzi, il mondo è fatto, il mondo reale, il mondo tale è fatto per cui rimangono le cose in sospeso. Probabilmente è da fare con il metodo che hanno fatto loro, quindi farsi la curvettina di solidificazione. Proviamo a farla? Proviamo a condividere, a vedere se... È già condiviso, penso. È già condiviso. È già condiviso, certo. Allora, proviamo a create new workspace. Allora, database. Carichiamo come sempre i nostri elementi. Carichiamo, come sempre, il ferro carbonio. Così vediamo se riusciamo a venircene fuori in modo veloce. È già buono. Ragazzi, non so se vi rendete conto che voi avete un articolo del 2021 e voi con quattro cosette riuscite a riprodurre i risultati di un articolo pubblicato su una rivista scientifica seria nel 2021. Non è male, eh? Come risultato, se posso dire la mia. Allora, 0.02? Giusto? Sì. Adesso, finora non ti sei perso nulla di spettacolare, perché sono le solite condizioni di solidificazione, i soliti database, i soliti tutti, i soliti esclusioni delle fasi. Allora, facciamoli fare Shile, così com'è. Si vede, esiste Shile, già una buona cosa. Allora, in questo caso qua noi avremo l'andamento della temperatura. Esportiamo la tabella. È quello che avevo fatto Giovanni, è quello che avevo fatto all'inizio lezione. Non su questo caso qua. Allora, ho esportato la tabella. Tabula, questa, no? E proviamo a dare visto che non ci torna in altro modo. Proviamo a dargli la frazione di fase solida. Io avevo fatto, all'inizio lezione avevo fatto qualche cos'altro, tanto per cambiare. E la temperatura, problemi? L'abbiamo già fatto, no? E li facciamo fare né più né meno. Control C. Quanta roba c'era, di più? Si va fino al 148. Lo faccio con Excel perché è più immediato visivamente. Allora, a questo punto qua, facciamo la nostra regressione lineare. Inserisci il grafico, facciamo così. Lo ingrandiamo un pellettino. Noi però, allora, se gli diamo, secondo me, la regressione lineare così, aggiungi linea di tendenza, ci viene fuori una schifezza, così a naso, eh. Allora, visualizzate in questione, facciamo una polinomiale di ordine. Vedete che non riesco a piegarla bene, no? Perché è una curva molto a ginocchio, ok? Allora, facciamo una cosa un po' diversa. Prendiamo i valori. Da che valore parto, Federico? Ci sei ancora? Vi sto mangiando fuori troppo tempo? Ditemelo, eh, perché... Allora, proviamo a prendere i dati dallo 0,9 in poi, no? Perché in fondo, in fondo, ci interessa quello, no? E vediamo un poco che cosa succede. Non sono... perché ovviamente io non... Vediamo un poco... Meglio? Io direi di sì, visivamente, no? Magari non ci servirebbe neanche lo 0,09. Andremo a tagliare un po' di queste... Vorrei vedere qua, diciamo, dallo 0,94 in poi qualche cosa, del genere, se riusciamo a farlo un po' meno, comunque... Proviamo a dargli lo stesso i valori del... Aggiungi linea di tendenza, sempre con l'R quadro, sempre con la polinomiale, abbastanza. Vedete che comunque sia... Fa un po' meno schifo di prima, giusto? Sì. E allora, dato che fa un po' meno schifo di prima, dove iniziamo a tagliare, a troncare? Boo! 0,96? Proviamo? Quindi vado nel mio grafico... E vado da qua, e vado ancora da qua. E dove mi fermo? Boo! Mi fermerò alla fin fine. In realtà, potrei anche fermarmi, se voglio, non a tutti questi 0,999... Potrei fermarmi anche un pelo prima, perché se mi fermassi allo 0,99 dovrebbe essere già abbastanza, vero? Perché 0,99 siamo in frazione di fase solida, non radice quadrata. Quindi, se io mi fermo qua, dico io, eh... Inserisci grafico... Questa è già un po' più carina, vero? Quindi, questa cosa qua, se io mi metto la linea di tendenza così e così, viene già... Questa è una lineare, quindi ho già sbagliato di mio. Però, se mi metto una polinomiale di ordine 2 e visualizzo l'equazione, non è così schifosa, no? Se poi voglio fare una roba un po' più... di fargli fare l'inclinazione, faccio una cosa del genere, ok? Questo è un polinomio, vero? Allora, se io ho un polinomio, ed è un polinomio espresso in Fs, no? T uguale a funzione di Fs. Posso derivarlo? Sì, posso derivarlo. E per una volta potrei fare quell'operazione lì, quindi posso andare a vedere dov'è la pendenza massima. Boh, la pendenza massima... Noi li possiamo... Sarà qua, perché... a naso... questo valore 0,99 mi può dare un'indicazione. Quindi, io traccio la linea retta come nel lavoro, ok? Oppure, se non vi va di fare la linea retta, posso semplicemente andare a derivare questa equazione... Vediamo se ce l'ho da qualche parte. Posso andare a derivare velocemente, se riesco... No, non riesco velocemente a fare il... Io ho un'equazione di tipo polinomiale e vado a derivare i coefficienti semplicemente con la regola della derivazione dei polinomi, che è semplicemente... Allora, uguale a... Lo scriviamo qua, lo mettiamo così. Questa è una cubica, avevamo visto, no? Con un R quadro più che buono. Qua fa delle cose strane a livello di inflessione, ma... Allora, se voglio andare a derivare questa cubica in modo numerico, cosa dovrò fare? meno 6 e più 6, perché sto andando a derivare, no? Quindi, meglio se avessi un pezzo di carta, ma siccome non ce l'ho, meno... Allora, derivata di x cubo, ovviamente, è 3 per x quadro, quindi è meno 2, meno 6 e la qualche cosa per quest'altro, per quest'altro ancora. Quindi devo prendere, andare a farmi la derivata, voi potrete farlo x quadro più, in questo caso qua, avrò 10 e più 06 per x e meno 5 e più 06. Ok? Quindi ho i valori, devo andarli a sostituire, poi i valori relativi a questo FS che vale in qualche modo 1, quindi allora, meno... ... ... e... Grazie a tutti. Ci siete ancora o vi ho perso? Sì, ci siamo. Ho involontariamente premuto il tasto dell'aereo per un attimo. Allora, in questo caso qua abbiamo 0,99. Quindi, allora, questo qua è la derivata del mio polinomio di regressione lineare. Io sono andato a derivarlo a manina. È chiaro? No. Federico, ti è chiaro? Eh? Sì, è chiaro. Rispetto a FS, però. Rispetto a FS, sì. Ok. Ok. Se non la dice. Ok. Allora, DT su derivato di DT rispetto a derivata di FS. Che cosa è uguale? È uguale a DT derivato rispetto a FS alla un mezzo. E moltiplico, posso moltiplicare sopra e sotto. E andare a vedere su che cose vale questo. Quindi, diciamo che tu puoi fare questo, oppure, più correttamente, puoi prendere e farti le stesse cose, invece di farti il grafico che ho fatto io. Sempre per dei valori, in qualche modo, anzi, facciamolo addirittura da qua. Noi avevamo fatto i dati da 34 a 66. Allora, 34 e 66, quindi uguale a… Non dovete scappare a lezione, ragazzi. Tanto è registrato, e se dovete scappare, scappate, che ce la caviamo o che me la cavo in qualche modo anche da solo. Non voglio… A che ora iniziate con Giannatasio? Tre e mezzo. Ok. Allora, qua. Questa qua è la T. Ci mettiamo FS alla un mezzo. E allora FS è un mezzo, posso prendere questo qua e levarlo alla un mezzo. Ok. 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 Meglio? Ti convico di più, Federico? Sì, sì. In realtà con dei passaggi algebrici che mi piacerebbe rivedere come si può legare una cosa con l'altra. Però aggiungiamo pure la linea di tendenza e visualizziamo, facciamo una polinomiale di secondo ordine. Sì, perché va bene, perché così ho una… qualche cosa di meno da andare a derivare. Quindi facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. e quindi ci verrà fuori questo coefficiente moltiplicato a due. Questo coefficiente moltiplicato e basta. accettare la correzione direi di sì e questo invece l'abbiamo derivato. quindi questo qua lo moltiplico per il valore di 0,98, vero o no? la radice quadrata di fa, sì, 0,98 al quadrato e a questo punto qua dovresti… se non ho sbagliato… Sì, perché dovrebbe venire fuori un 252, che cosa viene fuori al lavoro lì? Nell'articolo che ci siamo andato? Sì. Allora, quanto carbonio? 002? 002, sì. Allora è circa… dovrebbe venire su 60. No, allora a me viene sbagliato. Non è che diventiamo matti, eh? Sì, sì. A me con questo metodo qua viene sbagliato perché a me viene 200… 250? Perché nell'articolo era fatto con la regola della leva. Sì, puoi farlo… allora puoi farlo… puoi farlo come vuoi. Io ci ho provato in un modo… Sperando di aver fatto regola della leva e non c'è il… Però in ogni caso, questo qua ci mettete in… Se riuscite a risolverlo meglio, per me io non ve l'ho risolto, quindi rimane questo problema dello 0.02 con due punti di domanda, ci può anche stare, che comunque sia… E vale la pena perderci un po' di tempo, ma non le giornate. Questo ve lo raccomando. Quindi non siamo riusciti a farlo e pazienza. Non ci sono riuscito io, non ci riuscirete nemmeno voi. Diciamo che… o se ci riuscite voi va bene, ma l'importante è che non mi spendiate più di mezz'oretta o un'oretta al massimo su questo… Se tutti gli altri numeri vi battono, è buona cosa che vi battano. Anche perché un contenuto di carbonio 0.02, a parte qualche acciaio inossidabile austenitico e dei valori così bassi, negli acciai che andrete a incontrare difficilmente lo troverete, però questo è solo una nota. Ok? Io mi fermerei qua se non ci sono ulteriori incasinamenti o che cosa. Ok? Sì, però volevo chiederle un'ultima cosa. Sì? Avevo provato a chiedere anche ad altri gruppi, non riuscivamo a capire come si faceva con Pandat la figura 3 che dobbiamo fare, che in pratica c'è per ogni percentuale di carbonio la differenza tra la temperatura di liquidus e solidus. Allora, tu la tua curva di liquidus l'avevi già fatta nell'assime numero 2, vero, liquidus, ferro carbonio? Sì. E avevi fatto anche il solidus però solo nella zona della copresenza e ferrite più liquidus, giusto? Sì, sì, ma lì c'era proprio il grafico con tutte le composizioni. Insomma, o è da fare solo con Excel, ma lì sembrava che lo facesse con Pandat. Ma è fatto in qualche modo con Pandat. Allora, io penso che in realtà sia fattibile con Pandat. Io in questo momento qua non riesco a inventarmi come farlo. Se poi ci riuscite voi mi fa piacere, però può essere più che sufficiente andarti a fare il calcolino di una cosa o dell'altra. Vediamo un attimo se... Allora, select components, abbiamo già fatto. Qua possiamo provare a vederlo, di farlo qua. E liquid. Questa target phase liquid. Questo è il tuo liquidus addirittura su tutta la chimica o che cosa. Questo qua è con Pandat, no? A quel punto lì bisognerebbe però andare su dei valori un po' più bassi e vedere che non vada in crash. Come è facile. Utilizzo sempre questo. No. Utilizzo questo. E target phase. Possiamo dargli un FCC a 1. Sì, siamo dall'altra parte, dovremmo... Puoi farlo, perché è questo... Secondo me stai molto meno a farti le due curvettine da una parte e dall'altra rispetto a... rispetto a farlo con questo. Se riesci a tirarmelo fuori al volo va benissimo. Io in questo momento qua non me lo immagino perché non ci avevo pensato tutto lì. Quindi al volo non ti so rispondere. Ok? Ok, va bene. C'è altro? Però il vero obiettivo non è fare l'intervallo tra solidus e liquidus che comunque va bene e che appreziate. Non è importante... Allora ragazzi, non è importante necessariamente che voi ripetiate pedissequamente ogni passaggio e ogni risultato dei lavori. È importante che abbiate capito come si fa e come si riesce a riprodurre i lavori e magari come si potrebbe riprodurre e quanto altro. Non sono più gli esamini di matematica o di fisica che se non ti tornava il numero con tanto delle vergoline giuste, non troppe, non troppo poche, quindi decimali giusti ti promuovevano, ti bocciavano lo scritto. In questo caso qua si tratta di avere un senso fisico della cosa e secondo me va più che bene come stiamo in qualche modo procedendo. D'accordo? Buono? Io interromperei la registrazione, se non l'ho già fatto. Condivisione... Interrompo la registrazione qua, vi saluto e ci sentiamo per email quando volete e per la prossima settimana. D'accordo con la lezione sincrona. Buona giornata, arrivederci. Altrettanto arrivederci. Grazie. Grazie.